Ho compiuto un gesto scellerato, sai, Monday night solitamente, storicamente, non escono fuori delle partite dove cazzarole, che fai? Te ne vai a giocare a calcetto e poi c'è l'Atalanta, c'è la Dea che ti punisce, se può lo fa, lo fa, ti dice ma è questo che è voluto, è questo che hai scelto, ti devi assumere le responsabilità e ti cala 5 gol dal mazzo, si porta a un punto dal quarto posto, qualificazione già, qualificazione per davvero, no playoff, affrontare squadre che scendono dalla qualificazione, la testa di serie nel giro di Europa League, semifinale di Coppa Italia, c'è una squadra ragazzi che negli anni si è rinnovata eppure nel rinnovamento non ha perso forza, l'Atalanta si è guadagnato uno status, cioè l'Atalanta si è guadagnato lo status che se poco poco esce dalle prime 6, eh ma sai quest'anno, l'Atalanta ogni anno fa delle robe che sono fuori dalla norma, sono straordinarie, non rientrano negli schemi ordinari, no, no, ragazzi, 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 ma non parlo neanche dei gol, perché l'azione più bella la fa, nasce da una rimessa di Ruggeri, tocca palla a Scamacca, la parla arriva Ederson, Ederson l'allarga, Coop Miners attende, aspetta la sovrapposizione di un Olm che è una freccia, una freccia e Olm la mette in mezzo per Ederson che inizia l'azione e la va a chiudere, quella è l'azione più bella della partita, non è un gol, ma lì c'è l'essenza del Gasperini, voglio dire Gasperini bis, Gasperini tris, Gasperini poker, perché negli anni questa è una squadra che si è rinnovata, non gioca più come una volta, che si può prendere anche delle pause nelle partite, perché adesso è una squadra che ha imparato anche a gestire i momenti, prima doveva andare sempre a mille, ragazzi, e poi c'è una roba, c'è una roba, non è possibile che qualsiasi giocatore, con Gasperini e Miglio, qualsiasi giocatore riesce a tirare fuori il 200%, veramente Gasperini può piacere, non piacere, umanamente simpatico, non simpatico, non è un cabarettista, non deve far ridere la gente Gasperini, non fa quello per mestiere, capacitiamoci di questa roba qua, Gasperini tira fuori il 200% dei giocatori, cioè decetelare che l'anno scorso non sapeva fare uno stop, decetelare l'anno scorso non riusciva a fare uno stop col Milan, non riusciva a fare uno stop e riusciva a sbagliare anche con la porta vuoto, fatti, non opinioni, fatti, indiscutibili, questo per dirvi che Gasperini ha preso un ragazzo poverino ridotto all'osso mentalmente, non come gambe, perché adesso l'abbiamo visto che gamba ha, come te la mette sotto il 7, un'altra partita clamorosa, è un giocatore che sa fare tutto, perché è un giocatore che è anche forte fisicamente, se il suo corpo lo sfrutta, il suo corpo è ben allenato, congegnato in uno schema, in dei tammi tattici che ti fanno volare, ragazzi, esce fuori il decatelare che stiamo vedendo, ma qua parliamo di tutti, ripeto, Olm, parliamo sempre di Ederson, Kupemeyers, che sono giocatori anche loro strepitosi, ma l'Atalanta ci arriva sempre prima a prenderli, non è che prima di prendere l'Atalanta, non è che va a prendere i Modric, i Casemiro, va a prendere i giocatori definiti, strutturati, prende sempre i giocatori che hanno una qualità eccellente, e Gasperini è bravo in quella qualità eccellente, Raffal gli esprime al meglio, Ederson, Kupemeyers, De Ketelaris, Olm, Zapata, scusate, no Zapata, Zappacosta, ma perché Zapata, prende i giocatori che hanno delle attitudini, e comunque delle qualità definite, specifiche, e in quello ti entra nelle vene, ti entra nelle vene, ti entra dentro, ti fa un lavoro, io non lo so che cazzo fa, è una roba incredibile, mamma mia, mamma mia, la cosa che un po' mi fa rabbia è che magari passa queste vittorie, qua si passano per delle cose ormai normali, ripeto, sì, passano per delle robe normali perché l'Atalanta si è acquisito un determinato status che noi diciamo, ma sì, in effetti sono là, quinto posto, ma che ha vinto, Gasperini che ha vinto, cioè ma Gasperini non è che allena il Real Madrid, Gasperini non ha mai allenato il Real Madrid, cioè non è che allena squadre che devono vincere, perché ci sono vittorie e vittorie, e portare una squadra del genere quasi sempre in Europa non è una vittoria, è di più, non è valore, è di più, ragazzi, è una roba incredibile, valorizzare tutti, creare valore, ma sapete che creare valore è la cosa più importante nel calcio di oggi giorno, ragazzi, nel calcio di oggi giorno retto quasi unico, no qua, retto unicamente dei soldi e devi stare attento ovviamente ai bilanci, sono tutte società, e io ne so qualcosa, ma quasi tutte società indebitate, e questo ti crea sempre valore dai propri giocatori, mi pare poco, mi pare una roba di poco conto, mi pare una cosa, sì ma sì, però non vince nulla, incredibile, veramente, veramente incredibile, è una squadra che ormai, ripeto, ahimè non stupisce più, ma ho visto delle cose incredibili, questa sera dopo 15 minuti l'avevano già praticamente archiviata, non è un caso che 5 gol, 5 marcatori diversi, cosa significa ragazzi, 5 gol, 5 marcatori diversi, cosa significa? Banalmente, cosa significa? Che tutti, che tutti sono, che tutti entrano nel vivo, che tutti, che la, tutti sono coinvolti, sono tutti coinvolti, ripeto, sono tutti coinvolti, è una roba, una roba incredibile, ripeto, ho visto l'azione, mi è rimasta qua, l'ho vista 2-3 volte, rimessa di Ruggeris, Camacca bravo a servire subito, Ederson, poi vogliamo parlare di Ederson, 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 ma che centrocampo ha? L'Atalanta, ragazzi miei, ma veramente è una roba, una roba incredibile, e perché Ederson è cercato, è voluto a tutti i costi da, dalla squadra di Massimo, dall'Egri e dalla Juventus, perché questa è gente che, che secondo me ti può, ti può svoltare, credo e spero che l'Atalanta non lo ceda di certo a gennaio, altrimenti un po' di cacarella, scusate il termine mi verrebbe poi certo, direte voi bisognerà vedere se nella Juventus riuscirà riuscirebbe, non riuscirà, riuscirebbe utilizziamo il condizionale questo sì, perché ripeto la forza di Gasperini è che lui riesce a fare riesce da dalle caratteristiche specifiche che hanno i giocatori, riesce a esaltarle cioè, se tu hai la se Olm ha, è un razzo non è che Olm deve fare il difensore centrale, ha il compito solo deve essere sfruttato per quello che sa fare, e lui lo fa con tutti i suoi giocatori e rendono un altro giocatore che a me sembrava normale era Zappacosta Zappacosta invece in questa in questa Atalanta è un leader indiscusso è un leader indiscusso ma me ne potrei fare mille di esempi e stiamo da qui fino a domani oggi c'è finita la malcapitata Frosinone che devo dire che si è anche un po' mollata e e deve stare un po' attento perché adesso è arrivato anche un po' un periodo duro per il Frosinone e adesso devo dimostrare il Frosinone di eh adesso inizia la stagione del Frosinone sotto l'aspetto salviamoci entra entra in gioco questo aspetto anche mentale dove devono essere bravi signori buonanotte buonanotte buonanotte